vedremo ora hai sentito testa tj mox ah maganda rin to no workbook backpap parang maganda to eh ad feature, cell phone, sleep package parang pwedeng backpack ay pwede ay kailangan ano parang gusto ko to ito at yung nahanap ko paano ba ito kunin oo so ganito pala pagkuhan mo ito parang ito yung gusto ko parang kasaba pwede ka yung water and bath si Mitchell pwede ka yung laptop si Mitchell pwede ka yung laptop mukhang pwede ah paano kukunin to ah kala ko naman so try ko to yung 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 mas ok to oh oh and then pwede mo rin hawakan tapos ayan ayan pwede na yung pang harapas bilin ko yan guys kailangan ko yan para para bagpak oo kaya pwede yun kesa yung isa yung yan pwede siya oh yeah pwede siya laptop ok ay binabili ako pang laptop 9 west yes as you go ok nagusta ko to pang ay ok rin siya naayako nung may hawak hawak gusto ko yung backpack katulad na ito Poi posso riportare i bambini. Ok. So, l'abbiamo a prendere un toy. L'abbiamo a prendere qui. L'abbiamo a prendere qui. Non c'è l'abbiamo. L'abbiamo a prendere. Dressing rooms. Calvary clothes. Long sleeves. L'abbiamo a prendere. Ok. Green. C'è me nà, tìm kong mai toy. Oh wow. L'abbip onda capì? Mininci an. pequena. L'abbiamo a prendere. Quasi vuoi si parlavo. Quasi che io adoro. V triste. Quasi. Quasi la giustina. Quasi la giustina. Quasi la giustina. Quasi. Grazie a tutti.